Un giorno benvenuti alla segna stampa di oggi 12 febbraio, andiamo per ordine. Parliamo di politica, che cosa succede sulla politica di oggi? Diciamo che ci sono un paio di cosette che riguardano il centro-destra soprattutto, perché ieri ha partecipato a una trasmissione televisiva Berlusconi e si è incronciato con Matteo Salvini. Invece di esserci le scintille che uno si sarebbe potuto immaginare rispetto alle dichiarazioni delle ultime settimane, i due sembravano andare d'amore e d'accordo. Chi ci crede, secondo me, è un ottimista. Oggi mi sembra che dice Ronzulli, in un'intervista sul Libero, dica che è una di quelle che conosceva e ha avvicinato Salvini a Berlusconi e ha fatto le liste di Berlusconi insieme a Ghedini, dice che vedrete che i due non litigheranno. Io credo poco al fatto che se dovessero vincere le elezioni, un grande sé, perché bisogna vedere come finiranno queste elezioni col sistema elettorale, possono andare d'accordo. Li vedo un po' in disaccordo sul tutto, penso innanzitutto a quello che ha detto ieri Berlusconi, cioè che lui vorrebbe come ministro della Spending Review, vorrebbe come ministro della Spending Review Carlo Cottarelli. La vedo molto difficile che i tagli e le sforbiciate di Carlo Cottarelli possano piacere a Salvini, ma anche a molti degli uomini che Berlusconi ha imbarcato negli ultimi anni. Andiamo a Macerata, che è l'altra grande storia di questa settimana, dove ovviamente tutti quanti sono così complici di questa straordinaria marcia antifascista che inneggiava le foibe e che sembra dimenticarsi quello da cui nasce tutto quanto il casino di Macerata, cioè sostanzialmente da una banda di nigeriani, qualcuno parla di mafia, che ha massacrato una ragazza italiana di 18 anni. Va bene? Nasce tutto da là. Ma poi dopo arriva Traini o Traini, Traini, un pazzo fascista che ferisce sei uomini di colore e da lì la grande marcia antifascista che per non farsi perdere nulla ovviamente si occupa di sputtanare se stessa e tutte le migliori intenzioni. Cosa che aveva ben capito il sindaco di Macerata, che è uno del PD, non è né Renziano né altro. Il sindaco Macerata ha detto vi prego non facciamo questa manifestazione, evitiamo di fare manifestazioni neofasciste, non neofasciste, antifasciste. Non è questo il momento perché in città c'è molto fermento. oggi in un paio di interviste, ovviamente da conto di queste sue dichiarazioni, anche perché il sindaco di Macerata durante la manifestazione, oltre a essere stato insultato lui e Renzi, e Renzi ha buon gioco a dire mi sembra che sia stata fatta una manifestazione non contro i fascismi e i razzismi ma contro di me. E Gino Strada, Gino Strada, che è un cretino, va bene? Potrà essere un grande medico, potrà essere l'inventore di quello che volete, le sue cose potranno fare benissimo, ma Gino Strada, quando dice che il sindaco di Macerata è un colluso e un corrotto, un colluso e un corrotto, perché dice di non fare quella manifestazione, dimostra il fatto che lui è un fazioso cretino. Chiaro? Non ci sono dubbi, non ci si può permettere di dare del colluso e del corrotto a un sindaco del PD che dice semplicemente molto meglio di quanto sa Gino Strada quello che succede nella sua città. È molto difficile da capire? È molto difficile da pensare? Beh sì, evidentemente sì, anche perché una certa sinistra oggi se ne frega dei sei feriti marocchini, dei sei feriti col di colore, ma proprio non gliene può fregar di meno. In realtà la sua è una battaglia politica. Basta guardare la tristissima parabola di Emma Bonino, è una signora che non vede l'ora di trovarsi accucciata in Parlamento e per fare ciò ha cercato anche di fare lei, con la sua storia radicale, un accordo con i cattolici tabacci. Oggi guardate che cosa dice l'irrilevante Bonino, rilevante per noi soltanto per ricordare cosa sono diventati i salotti. A Macerata dovevano andare tutti, e vabbè questa è una sua opinione, ci può stare, lei che critica il PD grazie al quale lei oggi ha un seggio in Parlamento che doveva andare anche Renzi, perché se fosse stato l'inverso un nero che sparava ci saremmo andati tutti. No, scusa, no, scusa. Cioè, bisognava andare tutti perché se fosse stato l'inverso un nero che ci sparava sareste andati tutti. No, Carabonino, perché nessuno è andato a Macerata quando tre neri hanno, non sparato, hanno sezionato una ragazza. Cioè, che cosa ti dice il cervello? Come fai a dire una frase così stupida, così cretina? Ma se fosse stato un nero che sparava ci saremmo andati tutti, non c'è stato nessuno, non ci sei andata tu, non c'è andata la Boldrini, non c'è andato Mimiti, non c'è andato Grasso, non c'è andato nessuno a solidarizzare con la mamma di una ragazza italiana che è stata sezionata, il cui cadavere è stato sezionato tra i nigeriani. Chiaro? Nessuno. Quindi, voglio dire, ma come... Vabbè, il rincoglionimento è tale per cui l'altra intervista che fa, perché tutti i giornali oggi proni a Labbonino, perché Labbonino non è in grado di raccogliere 30.000 firme, cosa che è riuscito a fare i ragazzi di 10 volte meglio, il rizzo dei comunisti, è riuscito a fare migliaia di partiti, ma Labbonino no, no, non è riuscito a raccogliere, diciamo, alla caricatura delle firme. Tutti gli altri sono riusciti, quella vergognosa dichiarazione della Labbonino per cui lei non c'è riuscita. Sapete che altro dice? Perché i giornali intervistano soprattutto quelli che non hanno nessun peso nella società, non vedo molte interviste ai ragazzi di 10 volte meglio che io ho sentito in radio e che mi sembrano straordinari, ma lo stop agli sbarchi non ha affernato Traini. Questo dice Labbonino. Lo stop agli sbarchi? Ma Bonino, non ti viene in mente che forse non è lo stop agli sbarchi che doveva affermare Traini, che è comunque un pazzo che va condannato, ma il fatto che nella tua logica perversa sono 10 anni di sbarchi che hanno creato questo clima nelle nostre periferie, non negli ultimi sei mesi di Minniti. Vabbè, imbarazzante. Nel frattempo fa buon viso, ha cattivo gioco, ovviamente no, diciamo che non è questa la frase giusta. Ha ben ragione Sallusti quando dice ma scusate, ma vi rendete conto che a Piacenza è stato malmenato un carabiniere durante una manifestazione antagonista scusatemi durante una di queste manifestazioni diciamo contro il razzismo mentre hanno menato un carabiniere e lì è perfettamente identificato la persona che ha menato questo carabiniere. Se quei cori contro le foibe dicendo che le foibe boia boia da Trieste in giù la foiba ben viene, è una cosa orrenda a favore delle foibe. Se il carabiniere che avesse ferito da un manifestante bene, tutti ripresi dalle telecamere se invece di aver inneggiato alle foibe avessero inneggiato il nazismo se invece del carabiniere fosse stato un bianco a menare un nero e mandarli con la spalla rotta all'ospedale non sarebbero stati già arrestati questi personaggi? No, perché siccome si può parlare delle foibe male male nel senso che bene si può dire poi che volete che semmen mandiamo nelle foibe altri italiani, altri fascisti o si può menare un carabiniere e quelli che hanno fatto queste robe qua a piede libero, tranquilli, si può, va bene? Grillo oggi è sui giornali per due pezzi uno diciamo che è sul Repubblica la quale individua la possibilità che all'interno del Movimento 5 Stelle ci siano come due partiti quello di Di Maio che vuole fare l'accordo dopo che probabilmente il suo partito diventa il primo partito italiano e quello invece alla Grillo che invece dice bisogna essere duri e puri non fare accordi con nessuno in più sulla questione delle liste l'Iene ha pubblicato sul sito internet rendendo così ancora più ridicola la nota, mi sembra, proprio Repubblica oggi l'idea della par condicio perché non si riesce a capire perché la par condicio valga per le televisioni e non per internet nel senso che è evidente che il mondo è talmente diffusa di informazione che fare la par condicio in televisione serve a zero ebbene una decina almeno di esponenti del Movimento 5 Stelle non hanno redato i loro rimborsi lo strillone ci spiegherà che questo è poco male a me l'idea che la Lezzi che fa la moralista che mi dice che mi deve prendere a calci nel sedere non ha secondo l'inchiesta delle Iene ancora ridato ma anche perché se ne riempiono la bocca ridato indietro i suoi quattrini che aveva promesso a tutto il popolo io sono onesta, ridò indietro tutto nessuno te l'ha chiesto ma se tu dici di essere onesto e non ridai tutto beh insomma mi viene da ridere stesso risata oppure come posso dire tristezza mi viene per il fatto che solo oggi il messaggero in prima pagina riesce a notare come la più grande ONG come si chiama charity europea che si chiama Oxfam quella che ci fa due palle così due palle così una volta all'anno sul mondo molto disuguale i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri bene in realtà di occuparsi dei ricchi e dei poveri dovrebbero occuparsi quelli di Oxfam dei suoi ricchi dei suoi super pagati volontari riceve non so soltanto dal governo inglese 40 milioni di sterline per fare beneficenza beh almeno un centinaio di partecipanti di 20 vertici di Oxfam sono stati beccati a fare sedute pedofile sedute di prostituzione ad Haiti dove erano stati mandati per curare e per aiutare i terremotati si riempiono la bocca di giustizia, di ingiustizia, di disuguaglianze poi i suoi vertici trombano con le puttane scusate il modo di dire ma è quello che c'è nei verbali e non contenti di aver fatto questa roba qua vengono licenziati ma cioè non licenziati i capi e i vertici di Oxfam gli dicono secondo il Times, il Guardian tutte queste inchieste che sono venute in Inghilterra gli dicono voi adesso ve ne andate via della nostra ONG ve ne scappate via se voi lo fate autonomamente perché se no succede un casino noi non vi diamo delle cattive referenze e non diciamo il motivo per il quale se ve ne siete andati via da qua il motivo invece è semplice tant'è che il capo missione da Haiti era stato già beccato nel 2006 a fare le sue orge la rifatte ad Haiti le sue orge ed è stato mandato via almeno un centinaio di persone sono state mandate via e almeno 60 denunciate alla polizia di una sola ONG Oxfam ricordatevela quando vi chiedono i soldi Oxfam così come vi ricordate Save the Children così come vi ricordate tutte quante le grandi ONG che vi chiedono soldi e poi dopo li utilizzano per cose che voi non potete immaginare i soldi datevi a le fate beneficenza chiaramente a quelle piccole organizzazioni che conoscete e che sapete come usano i soldi direttamente sul campo chiaro? non a far politica non a fare le cene alla Oxfam dove c'è sempre no? la creme della creme della borghesia europea e poi dopo i suoi manager che diventa un vero e proprio mestiere pensano di come posso dire di avere i loro rapportini sessuali a pagamento con i vostri soldi ciao